buongiorno sono urbano della san e moreno svage audi di fucecchio oggi vi presento una vettura veramente veramente economica allora come potete vedere si tratta di questa bella ford focus 1.600 a benzina tre porte dell'anno 2001 ora per il prezzo poi lo troverete sull'inserzione quindi su questo video non parliamo di prezzo a livello di carroceria come potete vedere qualche graffio qualche graffio vario sulla carrozzeria esterna quindi nel paraurti c'è qualcosa anche sul paraurti anteriore però di meccanica è completamente funzionante ora vi farò vedere anche i chilometri che sono veramente pochissimi questo è il paraurti anteriore dove vediamo questi graffi di conseguenza la vettura viene venduta nello stato in cui si trova e ripeto il prezzo lo troverete sull'inserzione internamente eccola qua troviamo un piccolo bocchino sul sedile ha il suo climatizzatore vi faccio vedere anche quello eccolo qua il suo autoradio con il cd a livello di chilometraggio ha fatto solamente 95 mila chilometri quindi torno a dire una macchina completamente ancora da sfruttare sotto il profilo meccanico quindi questa è veramente una vettura per chi vuol spendere poco ed avere una macchina comunque da sfruttare è già disponibile presso il nostro punto vendita quindi la potete già venire a vedere se desiderate provarla la proviamo e vi facciamo sapere tutte le informazioni che volete su questa vettura quindi intanto vi ringrazio per l'attenzione di questa spiegazione dopodiché abbiamo questa proposta oppure molte molte altre vetture da farvi vedere quindi vi aspettiamo vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima